La vegetazione è alterata dall'erosione continua dei reagenti cosiddetti geomorbici, gelo di gelo, acque correnti e quant'altro. Si è inervita per cui è una valle abbastanza vecchia e stabilizzata e adesso c'è tutta la parte cosiddetta biologica, la vegetazione, gli animali, eccetera, che sarà argomento di persone molto più brave. Grazie a tutti. I was defeated you while the war Waterloo, promise you love me forevermore Waterloo, couldn't escape if I wanted you Waterloo, knowing my fate is to be you. Le fortale sono perciò delle entità per il tecnico molto importanti perché all'interno di queste particelle so esattamente quanti metri subito ci sono, che tipo di bosco è e la vocazione produttiva del bosco. Cosa voglio dire? voglio dire che esistono dei boschi che si chiamano di protezione, non è? E poi voi tutti sono i vecchi, non è più progettivi. E voi tutti i vecchi sono i vecchi, non è più progettivi. E voi tutti i vecchi sono i vecchi, non è più progettivi. Waterloo, couldn't escape if I wanted you Waterloo, knowing my fate is to be you. Waterloo, finally facing my waterloo Waterloo, waterloo Waterloo, finally facing my waterloo Waterloo, abuses itspositive Waterloo, finally facing my waterloo Waterloo, finally facing my waterloo Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sono uguali per non far danni agli animali. No, però sto pensando che è molto più facile se tu sei in giro avere un recinto se non ce l'hai